Un caloroso saluto a tutti coloro che seguono Runner Production su Facebook, Instagram e YouTube. Oggi mi vedete in una veste inedita, perché corre l'obbligo di dare comunicazione di quanto accade da un po' di tempo. È da qualche anno che vengono utilizzate immagini sia fotografiche che video senza il mio consenso, senza essere stato contattato né tantomeno citato. A nulla è servito inserire il mio logo nelle immagini. Perché molti ritagliano le immagini eliminando qualsiasi riferimento a me. Pertanto ho deciso di mettere una filigrana su video e foto, in modo da evitare l'uso da parte di altri videomaker e emittenti locali. Mi dispiace essere arrivato a questo punto, ma purtroppo devo proteggere il lavoro fatto da me. Anche perché non trovo corretto né professionale che terze persone realizzino video e servizi di TV con immagini girate da me. In questo momento non so come, in futuro, la questione evolverà. Posso dirvi già da adesso però che cercherò di attivarmi per farvi vedere i miei video di nuovo in chiave.